Per quanto riguarda l'analisi della partita è normale che se uno pensa di venire qua a Castellammare contro la miglior difesa del campionato e cercare di creare 20 palle gol questo lo sapevamo anche noi è normale che avevamo preparato tutto per andare ad isolare Zolà andare ad isolare Ferretti sull'uno contro uno ci siamo anche riusciti con questi cambi gioco veloci però è normalissimo faticare è normalissimo avere anche qualche difficoltà e ripeto per me fino al primo gol loro la partita si stava un po' addormentando l'avevamo in pugno e commettere un errore in mezzo al campo così banale, così in maniera superficiale non te lo puoi permettere contro questi avversari chiaramente ti hanno castigato poi se c'è un errore che potevamo evitare subire il secondo gol perché le partite vanno tenute sempre vive alla fine può capitare un episodio una palla lunga una svista da parte loro chiaro che sul 2-0 poi la partita è chiusa per il resto l'ho detto prima in altre situazioni avrei anche rotto qualcosa dentro lo spogliatoio oggi sinceramente non ho niente da dire ai ragazzi vi garantisco che erano super concentrati vi garantisco che hanno preparato questa partita in maniera straordinaria e per due errori andiamo a casa chiaramente rammaricati chiaramente non contenti però è normale che dobbiamo continuare dobbiamo continuare a lavorare siamo una squadra che ancora ha degli obiettivi da raggiungere non molleremo sicuramente adesso no, Vincenzo Italiano non ha gli occhi addosso da parte di nessuno Vincenzo Italiano deve pensare a lavorare giorno dopo giorno perché fa parte di una squadra formata di un gruppo di uomini veri a me, guardate, dispiace tantissimo tornare a casa e analizzare una sconfitta perché per come i ragazzi si sono allenati per come l'hanno preparata per la voglia per come hanno cercato di unirsi questa settimana a me dispiace soprattutto per loro io penso a cercare di far crescere questa squadra giorno dopo giorno io personalmente ho ancora tanto da dimostrare e da fare l'obiettivo personale di squadra per quanto riguarda me e il Trapani in questo momento qua è prima di tutto continuare a ottenere risultati da qui alla fine blindare quei obiettivi che abbiamo da blindare lavorare per cercare di ottenere sempre il massimo e chiaramente se dovesse svanire il sogno primo posto c'è poi da affrontare i playoff perché chiaramente siamo dentro ai playoff e onorare qualsiasi tipo di obiettivo chiaramente lo sapete cosa penso le partite ufficiali vanno sempre onorate dobbiamo cercare di ribaltare questo risultato di 1-0 dove all'andata anche per un errore clamoroso negli ultimi minuti finali siamo riusciti a perdere cercheremo di ribaltare il risultato di fare un'altra prestazione importante in casa abbiamo un altro spirito un'altra marcia chiaramente voi direte ma mister come mai non si è riuscito a cambiare questo atteggiamento fuori alle volte il carattere, il DNA e come è costruita una squadra si fa fatica a trovare le soluzioni noi per quanto riguarda la forza della squadra sappiamo che abbiamo tanti punti a nostro favore a qualche punto debole ed è normale che ci sono anche gli avversari e alle volte si pagano